Grazie a tutti per aver detto che i problemi dell'agricoltura dell'agricoltura e della produzione dell'agricoltura dell'agricoltura e dell'agricoltura sono abbastanza ambiziosi in compare con il passato. Il cambiamento climatico, la fertilità di solito e la maniera di acqua sono le priorità della agenda future. Come possiamo capire con i problemi? Sì, ho detto perché ho detto che la popolazione globale è crescita, di oggi 7.3 milioni di euro, per 2050 si stanno 9 milioni di persone. A stessa volta i risultati del acqua sono diminuiti. Io ho parlato anche di che il carbone è diminuiti. Questi sono molto forti elementi che affettano la produzione dell'agricoltura dell'agricoltura dell'agricoltura. Come possiamo capire con questo? La migliore è che se la popolazione diminuisce, possiamo prendere di questo. Ma tutti sappiamo che sia molto pratico, che questo non va a succedere. come possiamo effettare l'agricoltura dell'agricoltura, ma non solo effettare l'agricoltura dell'agricoltura dell'agricoltura, ma la profondità della produzione del futuro. Questo può essere fatto in molte mani. Abbiamo dovuto chiedere la nuova tecnologie in tutte le stranche dell'agricoltura dell'agricoltura. ma anche nella chimica, in controllo di incontro, controllo di malattie, manipulazioni di flora microbrale, etc., etc., che aumentano la capacità dell'agricoltura per coppare l'agricoltura dell'agricoltura. Mi hanno fatto uno adesso, anche benchedà caso l'agricoltura dell'agricoltura 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 di benedesse. Questo con la nuova tecnologie della chimica, in occasione dell'agricoltura 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 di energetiche, potrebbe obiettare i effetti di queste calamità. L'efficienza dell'agricoltura e dell'applicazione tecnologica è molto importante. Ma su di questo credo che abbiamo bisogno di essere aware che ci sono delle tecnologie emergente che devono essere dare alle piccoli farmaci che possono applicare. L'efficienza dei migliori di fare questo è che abbiamo bisogno di vedere molte volte che i agricoltori in anni hanno più prodotti e il prezzo ha descritto. E credo che questo è uno dei principi problemi dell'inistabilità dell'agricoltura. Credo che abbiamo bisogno di vedere la economia farmacica, la salute della città, l'efficienza dell'acqua, l'efficienza dell'acqua, e abbiamo bisogno di vedere la efficienza di nutrienti. In spite del cambiamento climatico, credo che possiamo capire con le domande del futuro. Grazie. Grazie. Grazie.